Capitano, ci siamo, domenica la partita dell'anno, la più importante della stagione, serve una vittoria in casa all'esseneto contro il Resuttana San Lorenzo per festeggiare la promozione in Serie D. Sì, sappiamo che abbiamo l'ultimo sforzo, abbiamo l'ultimo tassello da inserire, ci stiamo preparando bene, la stiamo vivendo in maniera giusta, anzi, per questo invito tutti i tifosi a darci una grandissima mano, a sostenerci come hanno fatto Colenna perché sono stati veramente il dodicesimo uomo in campo e spero che anche questa domenica il popolo biancazzurro risponda presente. Le tue sensazioni, le tue emozioni quali sono in vista di questa partita? Allora, sto cercando di bloccarle, bloccarle perché ancora nulla è fatto e sappiamo che abbiamo bisogno di tre punti per agguandare questo sogno di ritornare comunque in una categoria dove spetta all'Akragas e quindi per adesso sto cercando di essere solo concentrato per questa partita e poi sperando di festeggiare tutti insieme.